Alcuni dei miei clienti hanno una passione talmente viscerale per il loro prodotto che perdono di vista tutte quelle che sono le metriche fondamentali per misurare i risultati e i successi. Amano definirsi inguaribili romantici, è proprio un essere fuori dalle logiche del nostro tempo e fare il lavoro con una passione e un entusiasmo che poi non è giustificato in termini di risultati concreti, economici o anche solo di relazione. Gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi per misurare i risultati delle attività svolte online e offline alcune volte riescono a spostare l'attenzione delle persone da lo faccio perché mi piace a in effetti devo anche portare a casa dei risultati. Non ci riescono sempre e come mi insegnano in tanti corsi se l'altra persona non ha capito vuol dire che stai comunicando nella maniera sbagliata. Quindi mi interrogo e anche io sono costretto a pensare che sono un inguaribile romantico e non riuscirò mai a fargli cambiare idea.